Sacrificio è quello che si continua a chiedere ai medici dell'ospedale Umberto I di nocera inferiore costretti a fronteggiare una carenza di medici senza precedenti. Dai reparti di appartenenza ai camici bianchi sono costretti per ordini di servizio o volontariamente a coprire turni al reparto di emergenza dell'ospedale di riferimento dell'area nord della provincia di Salerno. Il direttore facente funzioni Gaetano Aprea sta cercando di fronteggiare così la grave situazione facendo leva sull'abnegazione e stacanomismo dei medici in organico all'ospedale Nocerino che chiedono però che si decida in maniera equa il coinvolgimento di tutti. La situazione è difficile anche nei reparti soprattutto quelli che H24 sono considerati salvavita, cardiologia, neurochirurgia in primis ma anche tanti altri. L'equa ripartizione di turni consentirebbe di respirare di più e dare la possibilità ai dirigenti medici di mantenere quell'equilibrio fino ad ora raggiunto. Sì, stiamo vivendo chiaramente il picco della sintomatologia influenzale, abbiamo notevole al flusso di persone e di pazienti al pronto soccorso ma stiamo cercando di rispondere nella maniera più appropriata e con la migliore assistenza possibile. I colleghi sia del pronto soccorso ma anche dei reparti soprattutto della medicina e quindi dell'area medica fondamentalmente stanno svolgendo un grosso lavoro di assistenziale, abbiamo la medicina che ha circa 22 posti letto, ha anche altri appoggi presso altri reparti. Nonostante tutti i colleghi si stanno dando, praticamente è andato a fare tantissimo per assistere questi pazienti che prevalentemente hanno patologie influenzali. Capita qualche volta che c'è qualche barella in reparto, soprattutto nei fini settimana, però poi i colleghi cercano ovviamente di trovare la migliore allocazione e assistenza per i pazienti. Alla situazione già caotica della quale la Regione Campania dovrebbe tener conto, soprattutto in termini di densità di popolazioni di una terra così abitate dalle mille problematiche come l'agronocerino sarnese, si aggiungono casi di cronaca drammatici sui quali la direzione si chiude nel riservo del rispetto del lavoro degli inquirenti. Il riferimento è al decesso della neonata a Latine dell'Umberto. Dispiace tantissimo quando si verificano questi episodi, però posso dire che chiaramente in questo momento c'è un'indagine interna da parte di questa direzione sanitaria, da parte delle strutture centrali e da parte delle autorità giudiziarie. Grazie.